Camice nere Pierissimi spadristi bresciani della vigilia Era stata inaugurata da Mussolini in persona nel 32 e disegnata dall'architetto del regime Piacentini. Piazza della Vittoria Brescia era stata abbellita da una statua alta 7 metri e mezzo raffigurante un possente giovanotto nudo e muscoloso. Il nome ufficiale era fascista ma i bresciani lo chiamarono subito il bigio dal tipo di marmo nel quale venne scolpita. Rimase al suo posto solo 23 anni nell'ottobre del 45 a guerra finita e dopo non pochi vandalismi venne rimossa e portata in un magazzino dove è rimasta, dove è stata restaurata e da dove dovrebbe muoversi per tornare in quella piazzora in via di sistemazione urbanistica. È una provocazione che viene fatta alla città, stanno dividendo la città su una pietra che non ha senso, porta un nome ben preciso, riteniamo che sia inopportuno riporla qui. Così ha risposto la brescia antifascista alla proposta della giunta comunale di centrodestra. Il bigio lì proprio non deve tornare, sarebbe uno sfregio rimettere sul piedistallo un simbolo del ventennio a pochi metri da piazza della loggia, il luogo della strage durante un presidio antifascista sindacale nel 74. Era fine maggio. Secondo i piani del comune la ricollocazione del colosso doveva avvenire tra l'altro al ridosso del 25 aprile in una data troppo vicina anche all'anniversario dell'attentato, subito sottolineato l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Questa statua non ha niente a che fare con Brescia perché se è brescianità il fatto che fosse stata collocata poi è stata dismessa, anche quella è brescianità. Allora sono bresciani anche coloro che nel 1945 decisero di spostarla da un'altra parte. La polemica è arrivata la scorsa settimana fino in Inghilterra. Un articolo sul Guardian mette in relazione la querel bresciana con la vicenda delle dimissioni di David Miliband, il deputato laburista che si è dimesso dal borde della squadra del Sunderland alla nomina come allenatore di Paolo Di Canio che non ha mai nascosto le simpatie fasciste. Il bigio per gli inglesi come misura per pesare quanto dell'eredità mussoliniana sia rimasta nel nostro paese. Presa la decisione in giunta, sindaco, consigliere, assessori di centrodestra non ne vogliono più parlare. Rimane ancora sospesa la scelta del giorno, ma ne parlano e tanto i bresciani. Sono contrario all'imbattimento delle statue, qualsiasi statue, perché per me storia è storia, va spiegata ai ragazzi e basta. Il problema grave sono i 500 mila euro sottratte alle tasche dei bresciani, magari potevano essere utilizzati in un altro modo. Non vedo perché non ricollocarla, magari con una targa a monito, una targa in ricordo. I rappresentanti della lista civica Brescia per passione cercano invece il compromesso. Il gesto è troppo forte per essere imposto ai cittadini, è un'occasione per discutere insieme. Il processo al bigio in piazza, coinvolgendo la città, coinvolgendo storici, coinvolgendo architetti, coinvolgendo chi ha una storia di antifascismo, credo che si possa arrivare a ricollocarlo attraverso questo percorso. Comunque vada, l'imputato è lui, bigio e ragazzone ora inerme, simbolo e testimone di anni sanguinosi che nemmeno l'arte riesce a recuperare. Grazie a tutti.